In occasione della non aggiornata mondiale contro il cancro infantile, la direzione medica dell'ospedale San Maurizio di Bolzano ha illustrato in una conferenza stampa alcuni dati sulla situazione in alto adige di questa patologia, che rappresenta la seconda causa di morte nei bambini dopo il primo anno di vita. Una patologia inoltre che è in fase di aumento del 2% all'anno e le cui cause sono ancora sconosciute in oltre il 90% dei casi. Le statistiche dicono inoltre che un bambino ogni 600 si ammala di tumore nei primi 15 anni di vita, ma grazie al progresso medico la percentuale di guarigione è di oltre il 70%, superando per alcuni tipi di tumore anche il 90%. In alto adige il numero dei bambini che si ammala di tumore varia da 14 a 16 casi ogni anno. Sicuramente la diagnosi di tumore è una cosa devastante per una famiglia e per un bambino, però poi il bambino sicuramente reagisce molto bene anche alle terapie, di solito tollera anche la chemioterapia molto meglio di un adulto, per cui grazie anche a tutta una serie di farmaci, grazie ai cateteri venosi centrali per cui i bambini non devono più venire bucati e così, la qualità di vita dei bambini durante queste terapie è non molto migliorata e i bambini stanno meno peggio di quello che si può pensare. Anche in provincia di Bolzano, come nella resta d'Europa, il tumore più frequente nei bambini è la leucemia seguito dai tumori del sistema nervoso centrale. Presso il servizio di oncoematologia dell'ospedale San Maurizio vengono seguiti fin dalla diagnosi oltre 140 bambini con patologia tumorale, di questi l'80% è vivo a testimonianza dei successi che si ottengono in questo settore. Di notevole importanza anche la nascita dell'associazione Peter Pan che da 12 anni aiuta le famiglie colpite e che ha contribuito in modo determinante al miglioramento della struttura che accoglie i bambini malati. I genitori in una situazione del genere sviluppano delle energie indescrivibili veramente, poi naturalmente bisogna tener conto del fatto che la medicina ha fatto grandi progressi per cui per quanto riguarda almeno la leucemia e altre malattie gravi la percentuale di guarigione sta diventando molto più alta. Naturalmente c'è l'aiuto di Peter Pan che può dare dei consigli che può dare un sostegno finanziario e poi naturalmente bisogna anche accettare l'aiuto da parte di psicologi.